Le persone scompaiono ogni giorno e purtroppo alcune di queste sparizioni rimarranno per sempre un mistero irrisolto. Ogni anno sono centinaia le persone che spariscono nei parchi nazionali in Nord America, il che può essere considerato tra virgolette normale, visto che sono delle distese veramente enormi di natura selvaggia. Il vero problema è che alcune di queste persone scompaiono in circostanze veramente molto strane. Alcune ad esempio non vengono mai più trovate, altre persone invece tra quelle che vengono trovate non ricordano cosa gli sia successo o semplicemente non sono disposte a parlarne. L'autore David Pulidis, che è un ex agente di polizia di Los Angeles, ha indagato scopolosamente su questi casi per tantissimi anni e ha pubblicato diversi libri a riguardo. Vi lascio qui sotto nella descrizione il link al suo canale YouTube, nel caso fosse interessati a saperne di più sull'argomento. In questo video comunque vi racconterò tre storie che mi hanno colpito particolarmente e che io personalmente reputo strane a tal punto che sembrano sfidare ogni logica. Tre storie, tra le migliaia che si trovano dietro il mistero sconcertante del fenomeno Missing 411. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Come sempre ti ricordo che se ti piacciono le storie assurde e misteriose, beh allora mi sa che sei nel posto giusto. Lascia un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nessun video. Ma ora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Mamma mia che ansia terribile oh! Dennis Lloyd Martin, nato il 20 giugno del 1962, aveva solo sei anni quando è scomparso nel parco nazionale delle Grit Smoky Mountains nel Tennessee, il 14 giugno del 1969. Nel fine settimana della festa del papà del 1969, Dennis stava visitando il parco insieme a suo padre, a suo nonno e a suo fratello maggiore. Il viaggio in campeggio era una tradizione di famiglia per loro. Hanno fatto un'escursione a Spencefield, vicino all'Appalation Trail, dove avevano programmato di passare la notte. Dennis quel giorno, intorno alle 4 e mezza del pomeriggio, stava giocando a nascondino con suo fratello e con i bambini di un'altra famiglia che si trovavano lì, nello stesso campeggio. È stato visto per l'ultima volta da suo padre, mentre si nascondeva dietro un cespuglio. I bambini in quel momento erano tutti nascosti e suo padre lo stava tenendo d'occhio, sapeva esattamente dove si trovava, quindi non era preoccupato. Fino al momento in cui tutti i ragazzi si sono saltati fuori e hanno spaventato gli adulti, doveva essere uno scherzo. Ma tutti gli altri erano usciti dai loro nascondigli e Dennis no. Suo padre a quel punto, dopo averlo chiamato diverse volte e non aver ricevuto risposta, e visto che comunque il figlio non usciva allo scoperto, si è avvicinato al cespuglio per scoprire soltanto che Dennis non c'era più, era sparito. Preoccupato quindi il papà ha iniziato immediatamente a cercarlo, ha iniziato a correre lungo il sentiero, ha corso per circa 3 km, ma di Dennis non c'era nessuna traccia, quindi a quel punto il padre ha deciso di chiedere aiuto ai ranger del parco. Nell'area in cui Martin è scomparso c'erano dei pendì molto ripidi, e ovviamente essendo un parco nazionale, quindi un luogo immerso nella natura, c'erano altri pericoli, tra cui animali selvatici come serpenti ramati, orsi e linci rosse. A complicare le cose, poco dopo la scomparsa del ragazzo è scoppiato un acquazzone, che in poche ore ha fatto cadere ben 8 cm d'acqua, ha spazzato via i sentieri e ha causato l'allagamento degli uscelli. Le temperature nella notte del 14 giugno sono scese al di sotto dei 10 gradi. Le ricerche che hanno coinvolto anche la Guardia Nazionale e le Forze Speciali non hanno trovato traccia di Dennis. La pioggia insistente durante il primo giorno di ricerca e la nebbia pesante del giorno successivo hanno ovviamente ostacolato il tutto. Sono state trovate delle impronte nell'area, che inizialmente pensavano potessero essere di qualche boy scout che stava aiutando nelle ricerche. Tuttavia da queste impronte si capiva che un piede era scalzo e l'altro no. Per questo motivo il ranger del parco riteneva che appartenessero probabilmente a Dennis, perché ovviamente nessuno dei boy scout che era impegnato nella ricerca era scalzo. Entro il 22 giugno è stata coperta un'area di ben 150 km2. Più di 1000 ricercatori hanno continuato il loro lavoro fino al 29 giugno, anche se ufficialmente le ricerche sono state chiuse poi il 14 settembre. Ad oggi quella di Dennis Martin è ancora la più grande ricerca nella storia del parco nazionale delle Grids Monkey Mountains. Esistono tre teori principali su quello che potrebbe essere successo al ragazzo. La prima è che si sia perso e poi si è morto successivamente per l'esposizione al freddo alle intemperie, probabilmente durante la prima notte. Questa è la teoria più probabile secondo i funzionari del parco. La seconda è che è stato attaccato da un orso affamato e poi è stato portato via. La terza invece è che è stato rapito e portato fuori da qualcuno. Suo padre era un sostenitore di questa teoria. A sostegno di quest'ultima c'è anche una testimonianza da parte di una famiglia che sostiene che il pomeriggio in cui Martin è scomparso hanno sentito un urlo fortissimo e poco dopo hanno assistito a un uomo trasandato dall'aspetto rude che correva lungo il sentiero vicino al punto da cui è arrivato l'urlo. Poi quest'uomo sarebbe salito su un'auto bianca e si sarebbe allontanato velocemente. Sfortunatamente però non c'erano prove sufficienti per collegare l'avvistamento alla scomparsa del ragazzo, in particolare perché l'avvistamento dei turisti è stato fatto a circa 8 km da dove è scomparso Dennis, anche se l'ora dell'avvistamento resta sconosciuta. La scomparsa di Dennis ad oggi resta ancora un mistero. Stephen Kubaki era uno studente del college quando scomparve nel febbraio del 1978. Era partito per una gita in solitaria con gli sci di fondo. Calcolate che Kubaki all'epoca aveva 23 anni ed era noto per essere un appassionato di attività all'aria aperta. Già in precedenza infatti aveva praticato sci di fondo nella stessa area, al confine con il lago Michigan. In genere le sue uscite duravano uno o al massimo due giorni, ma la sua uscita di quella settimana in realtà non era particolarmente insolita. Ma credetemi, il resto della storia lo è come. Perché quella volta sono passati due, tre, quattro giorni e Stephen non è più tornato. Ha lasciato una scia di impronte nella neve che conduceva al bordo del lago Michigan. Il percorso dell'impronte portò gli investigatori a concludere, in assenza ovviamente di altri indizi, che Kubaki era probabilmente annegato da qualche parte sotto uno spesso strato di ghiaccio. Un'uscita che si è poi trasformata in tragedia a causa di un incidente quindi? Non era questo il caso. Il 5 maggio del 1979, infatti, ben più di un anno dopo la sua scomparsa, Kubaki si risvegliò in mezzo all'erba su una collina a Pittsfield, nel Massachusetts. Pensate che si trovava a mille chilometri a est da dove era scomparso. La cosa più assurda di tutta questa storia è che Kubaki non aveva memoria dei 14 mesi e mezzo precedenti e disse anche che non si rese conto immediatamente di quanto tempo fosse passato. Se ne sarebbe reso conto, infatti, soltanto nel momento in cui ha comprato un giornale e ha visto la data. Dopo essere riemerso, Kubaki ha detto ai giornalisti che si era ritrovato a indossare abiti che non erano i suoi e aveva uno zaino pieno di mappe e di cartelli per l'autostop, come se avesse viaggiato molto tra le zone di Sacramento, San Francisco, Chicago e anche nello Utah. Aveva anche 40 dollari in contanti, un paio di occhiali nuovi, delle scarpe da ginnastica e una maglietta di una maratona nel Wisconsin. Su quest'ultima c'è una dichiarazione che ha fatto Kubaki in un'intervista, sento di aver corso molto, aveva detto. Che avrà realmente partecipato alla maratona, quindi? La sua memoria, fino alla sua scomparsa, è rimasta intatta. Disse che l'ultima cosa che ricordava era una sensazione di freddo e la paura di perdersi nell'oscurità gelata. Per decenni poi si è rifiutato di parlare della sua scomparsa con i giornalisti. Da un articolo online, che potete trovare nella descrizione di questo video, ho letto che la storia di Kubaki non ha ricevuto molto interesse da parte dei media, nemmeno una pagina di Wikipedia, ma questa storia è popolare nelle comunità online interessate al paranormale e uno dei motivi è il luogo in cui è scomparso Kubaki, vicino al confine sud-orientale del cosiddetto triangolo del lago Michian, un luogo in cui in passato sono avvenuti disastri aerei e naufragi, e non è difficile trovare online storie di navi fantasma, aerei fantasma, avvistamenti UFO e sparizioni inspiegabili di questa zona. Oggi Kubaki è vivo e vegeto e lavora come psicologo. La spiegazione più razionale che si sono dati gli utenti online è che Kubaki soffrisse di un problema di salute mentale, o comunque un problema emotivo, che lo ha portato a lasciare la società per un certo periodo e poi tornare quando ha scelto di farlo. Ma perché le persone sostengono questo? Principalmente perché Kubaki si è rifiutato di parlare con i media dell'incidente e una persona in uno stato mentale sano, non pensate anche voi che avrebbe riconosciuto quanto fosse stata strana la sua scomparsa e avrebbe cercato lui stesso di aiutare a dare una spiegazione a quello che è successo, comunque di aiutare le persone che hanno perso tempo e fatica a cercare di spiegare la sua sparizione. Questa ovviamente è soltanto una teoria e non è nulla di certo. E comunque, anche se fosse realmente andata così, un mistero resta in tutta questa faccenda. Ovvero perché lo ha fatto? E soprattutto, cosa ha fatto e dove è stato in tutto quel tempo? Fatemi sapere se volete cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Nel 1952, Kit Parkins, un bambino di due anni, scomparve dal ranch di suo nonno a Ritter, nell'Oregon. L'area era circondata dalla foresta, ma a Kit fu permesso comunque di giocare nel fienile insieme ai suoi fratelli maggiori. Ad un certo punto i suoi fratelli tornarono a casa per pranzo e lasciarono Kit nel fienile. Quando sua madre si rese conto che Kit non era tornato insieme ai suoi fratelli, si diresse verso il fienile per chiamarlo. Come negli altri casi che abbiamo visto, è stata quasi immediatamente lanciata una ricerca massiccia. Quando arriva la notte, il piccolo Kit non era ancora stato trovato e visto e considerato gli sforzi di ricerca che hanno coperto una grande aria, sembrava molto molto strano che potesse essere andato così lontano e in così poco tempo, senza lasciare poi alcuna traccia. La ricerca comunque è andata avanti per tutta la notte e quando è arrivata al mattino, finalmente hanno avvissato Kit. Era vivo ed era privo di sensi. Lo hanno trovato disteso a faccia in giù sulla neve. Pensate che è stato trovato a circa 13 km di distanza dal ranch della sua famiglia, con i vestiti disposti in ordine accanto al suo corpo. I suoi vestiti erano strappati e la sua faccia era piena di graffi. Cosa potrebbe essere successo? All'epoca le forze dell'ordine sospettavano che ciò potesse essere stato causato da un recinto di filo spinato, che il bambino aveva cercato di oltrepassare. Ma nelle interviste, Kit afferma che un gatto l'aveva graffiato. Questo è tutto quello che ricorda e che ripeteva sempre, soltanto che un gatto l'aveva graffiato. Un esperto di sopravvivenza di nome Lestru ha ritenuto impossibile per un bambino di due anni aver percorso quella distanza in quel lasso di tempo, ma poi soprattutto con quelle temperature e nel cuore della notte. In un documentario riguardo i casi Missing 411, infatti, sulla sua scomparsa hanno stimato che ci sarebbero voluto al piccolo Kit 19 ore di cammino senza sosta, per arrivare dove è stato trovato. Molte persone credono che possa essere stato rapito. Kit, tuttavia, è stato intervistato nel documentario, ma ovviamente non ricorda molti dettagli dell'incidente. Cosa può essere successo? Secondo voi è stato rapito? E se sì, perché, visto che poi è stato trovato in quel modo? Io, sinceramente, trovo tutto molto molto strano. La sua scomparsa e ricomparsa rimane ancora oggi un enigma. E voi, come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate a riguardo. E anche cosa ne pensate di questo video. Ebbene, ragazzi, anche le storie di oggi finiscono qui. Vi volevo anticipare che sto pian piano cercando di incastrare tutte le mie attività e i miei impegni per riuscire a portare almeno un video lungo a settimana su queste storie incredibili e misteriose. Vorrei portare anche dei video un po' più personali, ad esempio dei vlog o cose del genere. Non so se possono piacervi, fatemelo sapere nei commenti, vi prego. Aiutatemi in questo perché sono un po' bloccato nel partire con questi video lunghi su YouTube. Grazie mille, ragazzi, per il supporto. Non smetterò mai di dirvelo perché se oggi ho iniziato a fare questo, che era una cosa che io volevo fare veramente da tantissimo tempo, è soltanto grazie a voi. Ciao, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Molto presto, spero.